Conduttrice e volto di punta di Ray Gulp, muove i primi passi nel mondo della recitazione e della musica nel 2003. All'età di 12 anni, quando frequenta per due anni un laboratorio di musical, debuttando al Teatro Duoppini di Roma con Giulietta e Romeo e replicando con Jesus Christ Superstar, un anno più tardi partecipa alle selezioni ed entra a far parte del coro delle Voci Bianche. dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il quale per quattro anni svolge un'intensa attività artistica. Negli stessi anni partecipa a dieci puntate. Nei panni di Canaglia, al programma televisivo Piccole Canaglie in onda su Canale 5, condotto da Pino Insegno e Simona Ventura. Nel 2006 prende parte alla trasmissione Cominciamo Bene su Rai 3 in qualità di opinionista. Nel 2007 partecipa al Festival del Cinema di Roma interpretando il ruolo di Micol nella rappresentazione teatrale del film Il Giardino dei Finzi Contini. Nel 2009-2010 è nel cast fisso di festa italiana in onda su Rai 1. Come cantante solista, nel 2011 recita in un medico in famiglia 7 su Rai 1 e nello stesso anno è una delle protagoniste. Degli spettacoli fame e risate in corso per la regia di Claudio Insegno. Nel settembre del 2011 entra a far parte del coro pop gospel ST&B, diretto da Maria Grazia Fontana, del quale ancora oggi fa parte. Nel 2012 inizia un'intensa attività nel doppiaggio prestando la voce ai cartoni animati Toradora, American Dad, Max Humment, Strike Back, Scan 2 Go e nelle serie televisive Freeday Night Lights, Figli delle Stelle e Miss XV. Nel 2013 è la conduttrice del programma TG Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp, inizia poi una collaborazione con il telefono azzurro per cui conduce presso la Camera dei Deputati la Giornata Internazionale dei Diritti dei Minori. E ancora, l'Internet Staff e T-Day e l'evento i ragazzi interrogano la politica presso Palazzo Montecitorio. Nel luglio del 2013 è attrice del videoclip Movedindi della seconda classificata Sanremo, Giovanni Laria Porcedu, nel 2014 conduce, sempre per Rai Gulp, la TV Ribelle, un talk show per ragazzi in onda due giorni a settimana. E nell'estate 2014 conduce la TV Ribelle Web, magazine per ragazzi in streaming sul sito Rai.TV. Nel 2015 conduce per Rai Gulp il programma Versus, format dedicato agli sport minori realizzato in collaborazione con il CONI ed altre federazioni sportive, ed il programma culinario Ricette a Colori. Prodotto da Rai Expo e trasmesso due giorni a settimana per tutta la durata dell'Expo 2015.